l'arresto di federico marcelli ecco il video della cattura lavori conclusi lunedì riapre la strada della contessa barriere architettoniche i quartieri pesaresi attendono l'attuazione del peba rincari sui regali e pranzi natalizi si spenderà il 10 per cento in più teatro che passione boom di biglietti venduti e gli spettacoli amat buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è mercoledì 13 dicembre e apriamo questa edizione occupandoci ancora dell'arresto delle vaso pesarese federico marcelli trovato in umbria due giorni fa dopo quasi un mese di latitanza nel nostro primo servizio vi mostriamo quindi in esclusiva il filmato divulgativo dei carabinieri che ritrae proprio la cattura dell'uomo su cui dipendono due condanne da dieci anni complessivi per violenze sessuali vediamo il blitz in una tenda mimetica dove aveva tentato l'ultima fuga il monitoraggio via drone dell'area rurale attenzionata il ritrovamento inatteso pure di una serra di marijuana del quale lo stesso federico marcelli si stava occupando ecco le immagini della cattura del 49enne pesarese latitante dal 15 novembre arrestato domenica da un'operazione congiunta dei carabinieri di pesaro e di gubbio carabinieri che hanno divulgato il video dell'irruzione nel casolare di campagna individuato fra le frazioni di cugiano e pieve di compresseto nel comune di gualdo tadino un blitz in cui è stato arrestato federico marcelli sul quale pendevano due condanne per violenze sessuali lesioni e maltrattamenti nei confronti di due donne per una pena complessiva di dieci anni e quattro mesi di reclusione dopo aver fermato l'ultimo tentativo di fuga i carabinieri hanno perquisito anche i luoghi di pertinenza del nascondiglio trovando una serra allestita in una camera da letto per la coltivazione di piante di marijuana di cui otto già in avanzato stato vegetativo con infiorescenze una serra che marcelli avrebbe allestito assieme a un brasiliano ora indagato all'interno della casa sono stati poi rinvenuti sottoposti a sequestro un macete un pugnale e un hotel a serramanico alcune sim telefoniche 1800 euro in contanti un passaporto scaduto di una minorenne di assisi e il passaporto del brasiliano coindagato marcelli ora detenuto nel carcere di perugia e oltre all'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla corte d'appello di ancona è stato anche arrestato in flagranza di reato per la coltivazione di stupefacente e denunciato per illecito possesso di armi bianche ed ora cambiamo argomento si attende l'esame del dna per verificare se le ossa umane ritrovate ieri nei boschi urbinati di castacolo appartengono al fanese maurizio cesaroni scomparso lo scorso 25 giugno data in cui fuggì dall'ospedale di urbino nel telegiornale di ieri vi abbiamo dato notizia del ritrovamento del cadavere tramite segnalazione di un cacciatore oltre alle ossa è stato ritrovato un marsupio contenente il portafogli con i documenti di cesaroni la scomparsa del 68enne fanese in questi mesi era salita anche alla ribalta della cronaca nazionale attraverso la trasmissione rai chi l'ha visto e gli esami scientifici daranno la certezza sull'identificazione di un cadavere reso irriconoscibile dallo stato di decomposizione sono state effettuate le prove di carico sul nuovo viadotto della strada contessa che collega Marche e Umbria attraverso i comuni di Cantiano e Gubbio test positivo che dà il via libera all'attesa riapertura della strada i lavori erano partiti lo scorso marzo e sono stati conclusi con tempi quasi dimezzati rispetto all'iniziale previsione di Annas che ha risposto alle esigenze di territori costretti a mesi di viabilità complicata la strada verrà ufficialmente riaperta lunedì 18 dicembre alle ore 10. Lo scorso 2 dicembre il comune di Pesaro ha ufficialmente presentato il PEBA il piano di eliminazione delle barriere architettoniche che è atteso con ansia in diversi quartieri della città è il caso della segnalazione che ci arriva da residenti della zona Porto e che vi mostriamo in questo prossimo servizio il comune di Pesaro si sta adottando di un PEBA un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche è stato presentato lo scorso 2 dicembre ed è un piano molto atteso da tante famiglie pesaresi oggi ne parliamo ad esempio con Lorenzo Ago che assiste un genitore disabile in via dell'Azzaretto zona Porto vicino al centro direzionale Benelli dove ci troviamo in questo momento e che è già una struttura che presenta tante carenze da questo punto di vista di barriere architettoniche abbiamo bisogno del dell'attuazione del piano PEBA già inaugurato mancano anche delle piste dove le persone disabili possono entrare per esempio in questo caso al centro Benelli e come vedrete anche in una via del centro storico dove abitiamo via dell'Azzaretto in tal proposito che è una via che presenta diverse difficoltà per chi è portatore di handicap a cominciare da asfalti malmessi si parla di circa un ventennio che questa strada non viene asfaltata. Ci sono molte buche e molte persone che si sono anche fatte male io compreso in questa via. C'è anche un carico di traffico sostenuto per quanto è ristretta la via lo si può vedere sia nel tema parcheggi un po' deregolamentato e anche nella apposizione di alcuni paletti di delimitazione che dovrebbero salvaguardare comunque i pedoni ma allo stesso tempo diventano un limite per chi è portatore di handicap. Sono stati messi dei dissuasori questi paletti però per esempio il divietto di parcheggio c'è da un lato della strada e non c'è dall'altro quindi metà della strada che è percorsa anche a una certa velocità in senso unico è parcheggiata da ambo i lati dalle macchine quindi lo spazio per i pedoni specialmente disabili si riduce ulteriormente. Un altro problema forse sottostimato è quello anche delle durate dei tempi del semaforo in questo caso abbiamo monitorato quello che dà su via Cavour sulla vicina via Cavour con un tempo di semaforo verde ridotto per quella che è la velocità di chi sospinge una carrozzina. Sì è vero il semaforo verde dura esattamente 7 secondi quindi le persone anche normodotate trovano difficoltà nell'attraversamento della strada. Qui servirebbero rampe, un maggiore controllo anche sul traffico e sui parcheggi, un'asfaltatura quanto mai opportuna per riuscire a fare sì che queste barriere architettoniche siano veramente un limite da eliminare. Speriamo che questa venga in tempi veloci perché ripeto questa zona è prevalentemente abitata da persone anziane e disabili quindi noi siamo contenti, saremo contenti che questo piano di abbattimento delle barriere rientri pienamente nel Pesaro Capitale della Cultura 2024. Continuiamo con un'altra segnalazione perché oggi attorno alle ore 16 un camion è rimasto incastrato sotto il ponte ferroviario tra via Vincenzo Rossi e via Nino Bixio dopo aver ignorato la segnaletica riguardante l'altezza del sottopassaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il veicolo rimasto gravemente danneggiato e la polizia locale per regolamentare il traffico congestionatosi in questa zona ad alto transito. Ringraziamo quindi la telespettatrice che ci ha inviato queste immagini e vi ricordiamo il numero WhatsApp dedicato alle nostre segnalazioni 370-366-7210. Con l'arrivo dell'inverno stanno aumentando sensibilmente i contagi da Covid-19, una situazione al momento sotto controllo secondo l'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino che rialza però la sensibilizzazione sulla prevenzione ai contagi con tre giornate di Open Day ai vaccini anti-Covid consigliati soprattutto agli over 60 e ai soggetti fragili. Tre giornate in cui si potrà vaccinare gratuitamente senza prenotazione. Si comincia il 21 dicembre a Pesaro, mattina e pomeriggio nel Dipartimento di Prevenzione di Vianitti. Si continua il 23 dicembre a Urbino nella sede del distretto di Via Guido da Montefeltro in orario solo mattutino. Ultimo Open Day il 29 dicembre mattino e pomeriggio a Fano nel punto vaccinale di Via Togliatti. Regali natalizi e acquisti alimentari in queste festività costeranno il 10% in più rispetto a un anno fa e quanto è stato stimato da Feder Consumatori Pesaro Urbino sulla base di diversi rincari che scopriamo nel prossimo servizio. Tempo di feste natalizie, tempo di regali ma anche tempo di rincari. Dall'indagine di Feder Consumatori Pesaro Urbino che recepisce le ricerche dell'osservatorio nazionale dell'associazione quest'anno si spenderà il 10,2% in più rispetto al 2022. A registrare rincari più elevati saranno gli addobbi natalizi con un più 19%, i regali di ultima generazione come l'Hitec più 14% e i prodotti alimentari più 12%. La spesa media a persona tra chi effettuerà acquisti sarà di 169 euro. Dall'indagine emerge che il 68% di chi ha fatto acquisti durante il Black Friday lo ha fatto anticipando proprio i regali natalizi. Studi nei quali emerge come in questo Natale risulteranno molto cettonati i regali alimentari, dai vini ai formaggi, dal miele ai prodotti tipici, un settore in cui ci sarà una crescita di Doni Food del 9%. Fra i massimi rincari registrati da Feder Consumatori ci sono prodotti tipicamente natalizi. Costeranno infatti il 23-24% in più le lenticchie, i torroni o la frutta secca, addirittura del 30-40% il rincaro sulla cartoleria da regalo. Aumenta anche il prezzo dei regali tradizionali come libri o giocattoli. E fra le idee dei prossimi regali natalizi ci potrebbe essere anche quella di regalare un biglietto per il teatro. A patto di trovarne disponibili perché insomma l'AMAT ha davvero registrato un autentico boom di vendite dei propri spettacoli in questi primi mesi della stagione 2023 e 2024. AMAT che spettacolo! Dal teatro alla danza fino a musica e circo contemporaneo saranno 500 le performance che coinvolgeranno i teatri di 79 comuni marchigiani nella stagione 2023-2024. 150 gli artisti marchigiani coinvolti ad arricchire dal territorio alla dimensione europea una maxi offerta culturale presentata in Regione Marche. Una stagione sospinta da numeri di confortante risposta del pubblico. Sono infatti già 130.000 i biglietti venduti per un incremento del 25%. Innanzitutto portiamo 500 spettacoli e tocchiamo veramente tutte le marche, tutti i territori soprattutto cercando di dare voce ai nostri teatri che sono dei luoghi meravigliosi e soprattutto facciamo lavorare oltre 150 artisti marchigiani. Questo è un altro dato importante e significativo anche perché abbiamo delle eccellenze professionali nel nostro territorio che devono essere assolutamente valorizzate. Portiamo inoltre delle residenze artistiche anche questo è un altro fiore all'occhiello perché diamo la possibilità a tanti artisti di poter approvare le loro prime proprio nei nostri bellissimi teatri. Questo avvio di stagione che devo dire ci ha già commosso per l'attenzione del pubblico campagne abbonamenti trionfali è un dato medio regionale del 25% con punte di 40-45% in più significa che c'è voglia non solo di avere un'esperienza teatrale ma anche di averla prolungata di fare un viaggio proprio come quello che noi costruiamo nelle stagioni teatrali e oltre 130.000 i biglietti già venduti ad oggi quindi insomma davvero numeri impressionanti ma che testimoniano l'affezione dei marchigiani e quanti vivono questo territorio per i loro luoghi teatrali insomma noi il teatro è un documento del 1800 è il degno ornamento di ogni culta città ogni città vede nel teatro un luogo in cui è possibile emozionarsi, riflettere insomma per questo abbiamo scelto quest'anno uno slogan molto semplice insomma ricorda di emozionarti e vieni a teatro c'è qualcosa di bello che ti aspetta tanti progetti di varia natura tutti destinati a rispondere alle esigenze di un territorio anche nelle sue eccellenze penso ad esempio al Pesaro Capitale Italiana della Cultura che è un progetto che stiamo seguendo in primissima linea l'obiettivo adesso nella prossima stagione è quello anche di decontestualizzare come ho già detto più volte l'attività teatrale cioè uscire fuori dal luogo canonico del teatro portarlo di alla venda sui territori in ambientazioni sceniche molto belle che sono il Tau, i Teatri Antichi Uniti ma soprattutto abbiamo paesaggi palcoscenici naturali molto importanti su cui vorremmo lavorare la prossima estate come abbiamo fatto questo tentativo quest'anno che è molto apprezzato e molto bello che è stato Marche Grandi Storie dove siamo andati in tre località segnate anche dagli eventi diciamo tragici dell'Uione tipo Cantiano il terremoto tipo Adascoli e siamo stati al Torrentino al Castello dell'Arancia con la compagnia dei Fogli abbiamo fatto veramente il pieno su tutti quest'anno stiamo rispondendo a questo bando ministeriale per gli oggetti speciali pensiamo anche di interessare le province di Ancona e di fermo soprattutto Restando in tema di teatro in fase di ultimazione il cantiere per la realizzazione dell'auditorium per la musica, cinema e teatro Giovanni Santi di Bottega nuovo luogo della cultura che sarà inaugurato nella settimana fra il 22 e il 28 gennaio in cui Vallefoglia sarà il primo comune protagonista del progetto di Pesaro capitale della cultura 2024 domani a Palazzo Gradari di Pesaro dalle 11 alle 17 si terrà La Città dei Dati titolo dell'evento di City Vision legato al progetto pesarese della Casa delle Tecnologie Emergenti studenti delle scuole superiori e delle università verranno coinvolti in un viaggio alla scoperta delle nuove professioni sempre più richieste nella costruzione delle città intelligenti Nel pomeriggio City Vision metterà invece a un tavolo di confronto sindaci, assessori, stakeholder e imprese La Città di Pesaro dedicherà un doppio appuntamento venerdì 15 dicembre alla memoria di Giuseppe Saragat presidente della Repubblica dal 1964 al 1971 e segretario del Partito Socialista alle 16 all'angolo fra via Simoncelli e via Campo Sportivo sarà scoperta una targa dedicata a Saragat e alle ore 16.30 nella biblioteca della scuola Brancati in via La Marmora ci sarà la presentazione del libro sul colle più alto dell'onorevole Valdo Spini e continuiamo a parlare di appuntamenti perché sabato 16 dicembre alle ore 17 verrà presentato nella sala del Consiglio Comunale il libro di Stefano Giampaoli Pesaresi in cerca di memoria e futuro il volume pubblicato con il sostegno di Riviera Banca mescola ricordi della Pesaro che fu attraverso luoghi, personaggi, aneddoti di decenni di storia pesarese legati ad una prospettiva visione futura della città Musica, ballo e cultura al sostegno di una buona causa è questo l'obiettivo del tradizionale incontro conviviale pre-natalizio a sostegno di Iopra che si terrà il 15 dicembre all'Hotel Flaminio di Pesaro Si terrà il 15 dicembre al Hotel Baia Flaminia di Pesaro e sarà presentato da quel presente Thomas Nobili che ci diletterà con la sua presenza durante la serata avremo diversi momenti avremo un primo momento durante il quale ci saranno due ballerini professionisti che si esiberanno in un tango e in un balzer dopodiché ci sarà una piccola premiazione della lotteria L'evento si concluderà con il concerto del Sound Messengers che è un gruppo formato da Clarissa Vitti, Max Valentini, Paolo Sorci e Claudio Morosi che eseguiranno un concerto che si chiama Mina Revisit e che sostanzialmente ripercorrerà tutte le canzoni più importanti di Mina Seguo il mondo del volontariato con il Centro Servizi per il Volontariato con il CSV da tantissimi anni ed era un piacere per me mettere insieme le due cose la mia esperienza come speaker, come presentatore e il mio ruolo di presidente provinciale Invito a tutti a esserci per farsi gli auguri anche per sostenere lo Iopra ovviamente Lo Iopra assiste ai malati terminali non solo terminali oncologici direi perché oggi per fortuna ci sono anche vie di salvezza e quindi noi li assistiamo sia nell'anno del protocollo ma continuiamo ad assisterli perché hanno bisogno sicuramente i mezzi sono sempre più scarsi e di conseguenza abbiamo bisogno di sostegno per il sostegno facciamo appunto queste feste e altri eventi che si ripetono ogni anno contiamo sempre su quello che ci viene dato in queste occasioni nella vendita degli alberelli che facciamo tutti gli anni e quindi viviamo un po' di sostegno da parte di tutti Questa serata è una serata per raccogliere risorse per permettere poi ai volontari di fare il loro lavoro ovviamente i volontari sono volontari le risorse servono per tutte quelle attività che danno un po' di sollievo alle famiglie che sono colpite insomma dalla malattia e purtroppo non sono poche Insomma sono davvero tante le iniziative sul nostro territorio da vivere in questo periodo pre-natalizio ma restate su Rossini TV perché questa sera c'è una nuova puntata di Gli occhi della tigre questa sera alle 21.20 conosceremo una nuova pallavolista lei si chiama Maya Alexic ed è centrale Megabox Vallefoglia e subito dopo questo appuntamento invece vi mostriamo una nuova realtà del territorio Chiabì, questa azienda francese che ha sede in tutto il mondo apre un punto vendita all'interno dell'Iper Rossini di Pesaro anzi l'ho aperto qualche giorno fa e noi ve lo raccontiamo questa sera alle 21.30 e poi domani invece vi aspetto nel nostro consueto appuntamento delle 7.20 siamo in diretta sul canale 80 sui nostri social, sul nostro sito sulla nostra applicazione ma se volete ci trovate in replica anche alle 8.20 alle 12.20 alle 14.20 alle 18.20 e adesso vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni grazie per averci seguito